Novità in vista per gli automobilisti a partire dal 18 ottobre. L'assicurazione non dovrà più essere esposta sul parabrezza della macchina ma sarà controllata automaticamente attraverso la targa. A partire da questa data tutte le telecamere cittadine dovranno omologarsi per controllare la validità dell'assicurazione attraverso un database informatico, stessa cosa per le assicurazioni. Il provvedimento è stato varato dal Ministero dei Trasporti al fine di rendere veramente obbligatoria l'assicurazione per veicoli e ciclomotori. Il tagliandino dell'assicurazione è infatti facilmente falsificabile mentre con il nuovo sistema imbrogliare sarà impossibile.